È finito il progetto dell'assistenza in quell'area del parcheggio alla stazione Comunità di Sant'Egidio, però si è già attivata per trovare una soluzione alternativa per le persone che assistevate. Sì, questo progetto di emergenza alloggettiva è durato quattro anni. Questo progetto era nato con un'idea, era nato dal desiderio nel 2013, di offrire una possibilità di alloggio, chiaramente in situazioni di emergenza, alle tante persone che vivono per strada, o almeno un gruppo di loro. Tra le soluzioni che abbiamo trovato c'è stata questa del parcheggio delle roulotte. Naturalmente noi in questo progetto ci abbiamo investito, nel senso che quest'area è stata dotata di fognature, del servizio di acqua potabile, di un servizio di entezza urbana. E quindi è soprattutto un discorso educativo che abbiamo fatto con le persone ospiti. In questi quattro anni circa 50 sono le persone che sono state soccorse in quest'area e hanno potuto alloggiare in queste roulotte, che sono roulotte dismesse da privati e che venivano affidate, donate alla comunità di Sant'Egidio. Adesso queste persone dove saranno ospitate? In accordo con il Comune, con cui c'è una grande collaborazione con le istituzioni, abbiamo chiesto di non abbandonare queste persone, ma di fare in futuro un progetto migliore, che per esempio il fatto che queste persone possano beneficiare un giorno anche di una casa, una convivenza protetta, un dormitorio, che gli aiuti a vivere in maniera migliore, anche come qualità di vita. Noi siamo qua non per chiudere un progetto, ma tutti insieme per collaborare alle necessità di tante persone che sono disperate e che vivono per strada. A Civitavecchia sicuramente sono più di 30, diciamo 30-40 sono le persone che vivono proprio per strada dentro l'area del Comune. E noi vogliamo considerare questi come i nostri concittadini e non ci vogliamo rassegnare al fatto che vivano un'esistenza così difficile.